In questi giorni molti hanno riletto ed evocato anche pubblicamente le pagine sulla peste scritte da Manzoni e i Promessi Sposi. Proprio in quest'opera viene ricordato un antico proverbio, ancora oggi fortemente in auge, per cui del seno del poi son piene le fosse. Ci sarà un tempo per tutto, ma oggi è il tempo dell'azione, il tempo della responsabilità, dalla quale nessuno può fuggire. La responsabilità massima compete al Governo, senz'altro. Ne siamo consapevoli ed è per questo che sono qui a riferire delle nostre azioni, nella sede dove operate voi, rappresentanti del popolo. Ma la responsabilità, non mi stanco di dirlo, è di tutti i cittadini, anche di voi, membri del Parlamento, perché mai come in questa condizione di assoluta emergenza siamo chiamati a conformare tutte le nostre azioni verso il bene comune, al quale siamo chiamati a contribuire attraverso il rispetto delle regole, di quelle prescrizioni che abbiamo indicate, con pazienza, fiducia, responsabilità. Il Governo ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza, approntando, ben prima di qualunque altro Paese, le misure di massima precauzione. A partire dal 22 gennaio, ben prima che il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità decretasse e dichiarasse il coronavirus Emergenza Internazionale di Salute Pubblica.